Il primo acquisto di gennaio per il Napoli, Marek Amsic, il centrocampista slovacco, reduce da un lungo stop, ha ripreso ad allenarsi col gruppo ed è pronto a mettersi a disposizione dell'allenatore. La circostanza è stata accolta con soddisfazione da Rafa Benitez. E' il modo migliore per festeggiare la fine dell'anno e tornare al lavoro nei prossimi giorni, scrive infatti il tecnico spagnolo sul suo sito web. Benitez potrebbe presto ritrovare lo slovacco forse già nel match del 6-general San Paolo contro la Sampdoria. Amsic sarebbe infortunato in allenamento al piede sinistro prima della gara con il Parma dello scorso 23 novembre. Partito in panchina a scopo precauzionale era entrato a gara in corso, subendo però un pestone involontario da Gargano proprio sul piede contuso. A quel punto il trauma contusivo ha causato un'annevrite che ha costretto Amsic a stare fermo per oltre un mese. Qualche problema invece c'è ancora per Pepe Arena che oggi si è sottoposto a un controllo medico ed ha effettuato terapie. Il resto del gruppo azzurro ha effettuato una doppia seduta a Castelvolturno dove si ritroverà insieme ai sudamericani il 2 gennaio. Particolarmente atteso il ritorno di Camilo Zuniga il cui rientro dopo l'intervento al ginocchio destro sembra prossimo. Benitez potrebbe provarlo in Coppa Italia contro l'Atalanta il 15 gennaio.